Ieri mattina sono arrivate all'aeroporto di Capodichino nuove scorte di vaccini per il covid-19. La consegna è stata affidata al corriere DHL che, con un suo velivolo, ha trasportato le dosi fino all'aeroporto napoletano per poi continuare con i tradizionali furgoni. Anche questa volta la Guardia di Finanza ha ricevuto l'incarico di scortare il prezioso carico fino alle singole strutture. Ieri i vaccini appena atterrati sono stati consegnati all'ospedale San Leonardo di Castellammare.